Manuela Pignami, Circolo di Zola ha assunto una criticità allucinante sia necessario o certo fare le punte al governo perché magari non fa determinate cose e non fa determinate azioni però io credo che sia veramente da comprendere il fatto che forse una misura estrema che non potrà essere perfetta viene in un momento di crisi che non abbiamo mai vissuto e viene a colmare una difficoltà oggettiva io se vuole con il signor Lunghi dopo posso parlare anche in modo separato e le posso tranquillamente rassicurare che non sempre vengono fatti gli interessi dei lavoratori io smetterò di lavorare è un'azienda con articolo 18 ho lavorato 16 anni non avrò gli ammortizzatori sociali tutta una serie di cose anche adesso anche adesso che non è ancora intervenuto GioBAC allora forse è meglio che intervenga poi tutto non andrà sicuramente liscio però secondo me delle buone cose ci sono mi sono occupata per lavoro di formazione finanziata i fondi magari il governo non ne ha stanziati moltissimi però ci sono fondi che vengono dall'Europa che vengono utilizzati malissimo che è per la formazione un governo centrale sicuramente o delle linee in guida su questo sarebbero sicuramente di aiuto c'è una condimenta con enti di formazione docenti e risorse che vengono sprecate tutti i giorni poi potrei continuare con degli altri esempi ma ce ne sono moltissime quindi secondo me veramente probabilmente in corso alcune cose si potranno rimediare però credo che una riforma del mercato del lavoro che magari non potrà essere perfetta ma noi non stiamo vivendo una situazione perfetta stiamo vivendo un momento veramente difficile e io credo che questo possa essere uno sport da facciare anche io non sono sempre d'accordo con il Begare con quello che fanno sono una persona di sinistra da sempre però sono veramente convinta che solo cercando di cambiare di rinnovarsi perché non si può stare fermi in un momento come questo c'è il mondo che corre 200 volte più forte di noi e secondo me in alcune situazioni ci sono degli immobilismi perché sia a gestire le crisi aziendali io parlo dei sindacati non parlo solo della CGL ma parlo in generale sia sempre abituati a gestire delle pratiche semplici cioè io se faccio il mio lavoro faccio, non so, una lettera mi ha fatte mille nella mia vita ma si mi danno da fare un progetto estremamente complicato ci vogliono preparazioni ci vogliono competenze e molte volte in chi ci segue in chi ci aiuta questo non c'è grazie mille grazie mille